o la riccardo stai bene fammi vedere in faccia come stai bene no adesso no con dio se stai bene oh vediamo Bulti come sta io sto bene sicuro mi asciugo poi ti dico subito adesso ma dai affanculo dai riti ma io sto sempre serio in tutto la filo ma non è la foto video ma io sto sempre serio vai maglietta di che colore bianca perché maglietta bianca zio maglietta bianca cazzo ma no non gratis 4 consumazioni eh vabbè però ce lo sconto ce lo sconto io non devo pagare il deposito per il cappotto eh perché fa freddo sai e poi entriamo con la tipa non dobbiamo fare neanche la filo mettiamo con la tipa ah quella tipa con gli occhi neri dai basta basta ora si quella grazie a tutti